Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono la DJMeganite, oggi siamo in un nuovo vlog, ciao ragazzi, è da tanto pieno che non facevo un vlog, quindi non mi dice niente, solo che ho dovuto fare, quindi non ho avuto un po' di tempo, allora, oggi c'è fare questo vlog un po' perchè, prima perchè ho dei nuovi giochi da fare, quindi c'ho una cosa di questa, piena di giochi, sarebbero Minecraft, Sorgio Simulator, Train Simulator 2013, Bus Simulator 2013, Caso Fuduti, Loadout, c'è vero, ho ancora, devo prendere ancora un po' altri giochi, e poi ho deciso di fare un vlog perchè, mettendo questi di lato, penna, e cosa ho deciso di fare un vlog perchè, un attimo ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere tra un secondo, conto, ho ricevuto lo scatolo, i miei amici che mi seguono tanto, mi hanno impiato un po' lo scatolo, che ancora non ho aperto, non so cosa c'è, quindi allora, non so cosa c'è, e apriamolo, meglio che non la aprivo, allora, eh, per prima cosa ho trovato questa, perchè è una corvette, perchè, nel 1999 addirittura, cioè, allora, mettiamola di lato, ok, un portacigile e la Nesquik, cose che, cose che, dicevo, sono molto belle, e, me l'hanno impiato, un hot dog, un pupazzo d'hot dog, no, questa è una figata assurda, cioè, un carletto di calcio, poi pupazzi, 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 ancora un pazzo, ancora un pazzo, uno dei gormiti, e il 3 di dragon, ma c'è il goku, freezer, majibu, questo è tutto quello che c'era dentro il pacco, ecco, poi, con un pacco di scarpe, eh, e poi si chiama silly zone, che lì, e, aspetta, c'era un'altra cosa dentro il pacco, c'era un'altra, altri due pupazzi, ah, ecco, altri due carletti, inaspettato, comunque, comunque, raga, passiamo adesso, questo vlog me l'hanno, ce, lo dovevo fare, io sì, però, me l'hanno consigliato un po' i miei amici, di aprire questo pacco, che mi è arrivato qui inaspettato, e, comunque, poi ho deciso di fare vlog per i motivi di questi giochi, e, devo fare, perché, già noi, cioè, io è da, posso dire da un mesezzo, che ho già cominciato a fare i giochi nuovi, da quando, insomma, ho cominciato a fare il Slender Date Budgets, e quando ho cominciato, sono riuscito a giocare a nuove serie, quindi, ora, non so, domani, che sarà mercoledì, uscirà o SuperCrateBox, o SuperMateBoy, o su MotoriDreams, che l'ho fatto, o su Motori, non lo so cosa uscirà, penso che uscirà SuperCrateBox, e poi, continuerò la serie, c'è PES, Formula 1, comunque, raga, io c'ho poco tempo, ho poco tempo, quindi, bisogna di me, aspetta, devo vedere una cosa, e, vabbè, ecco, non mi ricordo cosa devo fare, ah, chiunque mi ha inviato questa cosa, e, è un poazzo, molto, bello, è molto bello, comunque, raga, io devo staccare il video, perché non ho, non ho tempo, cioè, non ho molto tempo, quindi, guarda il duvare, è molto sai, però non ho molto tempo, quindi, ragazzi, se vi piaciuto il video, mettetevi sotto, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, non me ne pendirete, ecco, l'ultima cosa, io, in questo qua, con il vlog, ho 92 video, insomma, appena arrivo a 100, farò un piccolo speciale, con, dei miei amici, quindi, ecco, dietro di me, vedete la sciarpa, della juve poster qua, insomma, e, comunque, ragazzi, io concludo qui l'episodio, se vi è piaciuto il video, non ci sia piaciuto sotto, se non vi iscrivetevi, iscrivetevi, e ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi,